Gianni ha 23 anni ha una anamisi familiare positiva perché la mamma dopo la gravidanza ha presentato un episodio di psicosi postparto e ha seguito per parecchio tempo cure specialistiche il nonno materno soffre di depressione Gianni si definisce come un carattere emotivamente molto sensibile intelligente, si è diplomato con successo e si è laureato e adesso lavora come impiegato esordita a 18 anni con una comparsa di un'ideazione ossessiva in cui lui pensava in maniera coattiva di poter perdere il controllo e farsi del male temeva di avere quello che si chiama un raptus questo pensiero l'ha angosciato per mesi dopo i quali ha cominciato a sviluppare anche un quadro depressivo che è diventato rapidamente molto grave fino a spingerlo a distanza di qualche mese ha un tentativo suicidio piuttosto impegnativo perché si è attentato un'implicagione è stato salvato solo con l'intervento dei genitori è stato ricoverato e alle dimissioni è stato dimesso con una terapia farmacologica a base di inibitori riattei della serotonina e benzodiazepine a distanza di un anno da questo ricovero Gianni ha un nuovo ricovero questa volta volontario è molto angosciato l'idea del raptus è ripresa e quindi chiede di essere ricoverato per paura nuovamente di mettere in atto un suicidio questa volta viene trattato con anche antipsicotici di seconda generazione prende in particolare del risperidone e dopo della ripribazola dopo questo ricovero non ritorna a una situazione di compenso continua a presentare uno stato depressivo con degli aspetti anche eccitativi ha un pensiero comunque accelerato ha un discontrollo degli impulsi ogni tanto abusa di alcolici e per la prima volta in vita sua sviluppa quello che potremmo definire un disturbo di alimentazione incontrollata nel senso che ha delle abbuffate notturne che lui non aveva mai avuto prima viene introdotto a distanza di un po' di tempo per la prima volta una terapia stabilizzante prima litio e poi del valproato e progressivamente vengono sospesi gli antidepressivi il paziente presenta un accitamento diciamo decisamente minore lentamente sia l'ideazione ossessiva sia il discontrollo migliorano e questo gli permette di riprendere un corso che all'interno della sua azienda gli era stato proposto a distanza di sei mesi però dell'introduzione di questa terapia un nuovo episodio depressivo e si pone il problema del trattamento viene proposto nuovamente un basso dosaggio di eripripazolo come terapia per gestire questa fase depressiva ma il paziente rapidamente sviluppa una insonnia una sorta di disforia di requietezza i genitori sono spaventatissimi riconoscono in questi segni quello che anni prima l'aveva condotto al tentativo di suicidio e chiedono al curante la sospensione di questa nuova terapia che per lui è troppo attivante a distanza di qualche settimana quindi viene sospesa la terapia ma Gianni continua a vivere in uno stato di depressione che lo angoscia molto e si pone il problema a questo punto di che fare il caso di Gianni anche un caso che parte con un quadro di familiarità di spettro bipolare la madre ha avuto una reazione psicotica post partum nonno materno quindi c'è tutta la linea materna è affetto da depressione Gianni, ragazzo giovane dal carattere sensibile come egli stesso si descrive è interessante capire che cosa accade intorno ai 18 anni in cui da una parte abbiamo una ideazione ossessiva e dall'altra parte c'è questo timore del raptus insomma la mia impressione è che qui l'ossessività non è un'ossessività primaria cioè non risponde ad una struttura diciamo ossessiva è piuttosto un'ossessività secondaria come dire di coping di adattamento ovvero è un tentativo che il paziente fa di reggimentare questa onda di cui sente il turbamento il timore del raptus e quest'onda che sta arrivando è l'onda dell'umore è l'onda di un umore perturbato che si annuncerà rapidamente come depressione e soverchiando ogni tentativo di coping con un tentativo di suicidio drammatico per impiccagione con un alto livello di impulsività e di violenza quindi il paziente viene ricoverato e anche qui con questo scorcio di storia dargli semplicemente degli antidepressivi e il fine è estremamente rischiuso perché è come se si andasse diciamo a incentivare qualche cosa che è cominciato da lontano e ha tracimato le difese del ragazzo infatti il raptus torna e anzi gli antidepressivi utilizzati smantellano ulteriormente la rete ossessiva sappiamo che gli antidepressivi hanno un certo funzionamento antiossessivo ma se l'ossessività è primaria allora va bene ma in questo caso l'ossessività aiutava il paziente aiutava Gianni a tenere sotto controllo quest'onda quest'onda disforica e infatti infatti arriva gli antipsicotici di seconda generazione la lipiprazolo quando vengono introdotti a basso dosaggio sono peggiorativi perché diventano attivanti in una situazione che oramai è di stato misto a questo punto non è più depressiva e con una grossa impulsività tant'è che Gianni tenta l'automodulazione con gli alcolici e con la bulimia cioè cerca fallita diciamo così la linea delle difese ossessive cerca di tenere quest'onda che lo turba e lo trascima quest'onda montante con l'ingestione di alcolici sedativi e di bulimia a questo punto riabbiamo un altro esempio di timing tardivo perché il litio i sali di litio e il valproato certo migliorano riducono la disforia ma sono tardivi ecco cosa sarebbe accaduto se Gianni avesse avuto litio e valproato già al primo tentativo di suicidio quando è stato ricoverato in SPDC infatti non lo tengono perché dopo sei mesi ricade in uno stato depressivo in realtà il fiume diciamo del disturbo dell'umore si è ingrossato la prescrizione di adipiprazolo anche qui a basso dosaggio è attivante quindi la insonnia risporia entra in una situazione di accelerazione di stato misto temono che si possa ripetere quello che è già diciamo accaduto per cui a questo punto che fare a questo punto la gestione è molto complicata perché è come se nel caso di Gianni il disturbo bipolare avesse avuto la miccia corta ed è esploso diciamo subito in maniera drammatica e sicuramente degli antipsicotici vanno usati ma non più attivanti e tenendo presente che poi hanno diciamo il rischio depressogeno dall'altra parte insomma però una strada bisogna prenderla in qualche maniera gli antipsicotici ci vogliono e poi sicuramente stabilizzatori a buon dosaggio anche in politerapia e naturalmente attesa attesa a questo punto solamente il tempo derivante dalla interruzione di trattamenti incongrui dalla somministrazione di trattamenti congrui e al creare anche da un punto di vista psicoterapeutico supportivo un clima di sostegno intorno a Gianni fosse possono modificare il decusso del disturbo che ha avuto un andamento veloce un andamento drammatico che lo ha condotto diciamo più volte sulla soglia della morte e che questo fa più male da psichiatri avrebbe potuto essere intercettato e fosse frenato in maniera corretta molto prima in maniera Grazie a tutti